Io penso che in queste giornate il pensiero non possa non andare alle donne ucraine. Pensando a loro possiamo pensare alla forza che stanno dimostrando e che può essere il simbolo della forza che dimostrano le donne tutti i giorni e di quanto diventi centrale il ruolo della donna anche nel trasmettere i valori fondanti della nostra civiltà. In tutto questo le donne affrontano dai problemi che si muovono in famiglia alle difficoltà del lavoro, alla gestione anche di quella che è stata la DAD nel momento della pandemia e dei bambini. Si rinnova ancora una volta la centralità del ruolo femminile in ogni ambito, in ogni aspetto sia della nostra società sia della storia che viviamo.